Per far fronte alle difficoltà delle famiglie al pagamento delle bollette arriva l'accordo seglato tra il Servizio Elettrico Nazionale e le associazioni dei consumatori, lo comunica Enel, la possibilità di attivare un piano di rateizzo fino a 12 mesi per il pagamento delle bollette, con rate di importo costante senza anticipo e senza rata minima indipendentemente dall'importo della fattura, il tutto senza applicazione di interessi di mora. Le condizioni di rateizzo possono essere richieste su tutte le fatture al 30 aprile 2022 al sito servizioelettriconazionale.it o chiamando il numero verde 800 900 800. Grazie per la visione!